Il legame con il Signore viene da dentro, è una relazione vissuta con il cuore. Lo ha detto Papa Francesco nella Catechesi dell'Udienza Generale di fronte ad una folla di circa 50.000 fedeli in Piazza San Pietro. Papa Francesco ha parlato della pietà, distinguendola dal pietismo e dal fare finta di essere come un santo. Il dono della pietà, ha detto, ci fa crescere nella relazione e nella comunione con Dio e ci porta a vivere come Suoi figli. Ci aiuta a riversare questo amore anche sugli altri e a riconoscerli come fratelli. C'è un rapporto molto, molto stretto fra il dono della pietà e l'amitezza. Il dono della pietà che ci dà lo Spirito Santo ci fa miti, ci fa tranquilli, pazienti, in pace con Dio, al servizio con mitezza degli altri. Chiediamo al Signore, ha aggiunto il Papa, che il dono del suo spirito possa vincere il nostro timore, le nostre incertezze, anche il nostro spirito inquieto ed impaziente e possa renderci testimoni gioiosi di Dio e del suo amore. Adorando il Signore in verità e anche nel servizio del prossimo, con mitezza ma anche col sorriso, che sempre lo Spirito Santo ci dà nella gioia, che lo Spirito Santo, ha compreso il Papa, dia a tutti noi questo dono della pietà. Grazie a tutti.